L'orso che gioca con un cane nel piccolo borgo di Villalago in Abruzzo, a riprendere la scena postandola sui social alcuni operai che stavano lavorando in quella zona. Un video è divenuto virale nel giro di pochi minuti, anzi di pochi secondi, pubblicato dalla nostra emittente televisiva. Il borgo era finito sulle cronache nazionali già nei mesi scorsi con l'orso amareno e i suoi quattro cuccioli, ora diventati adulti. L'episodio è accaduto nei pressi del sentiero armatore. Una donna stava portando a spasso il suo cane quando l'orso è sceso dalla montagna fino a fermarsi sulla strada dove stava passando il cane. Subito è nata una simpatia reciproca, tanto che l'orso ha tentato più volte di coinvolgere il cane nei suoi giochi. Poco lontano dalla donna c'erano alcuni operai che hanno ripreso tutta la scena.